Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Ancora una tragedia lungo le strade della provincia di Arezzo. Questa notte a Querata ha perso la vita una giovane di 21 anni. Tragedia della strada nell'Arettino. Siamo lungo la provinciale che attraversa l'abitato di Querata, una frazione del comune di Arezzo. Un ragazzo di 21 anni, poco prima delle due del mattino, ha perso il controllo della propria automobile ed è andato a schiantarsi contro il muretto di recensione di questa abitazione. La vittima è Lorenzo Cerofolini. Erano circa le due del mattino quando i residenti hanno sentito un terribile schianto. Sentivo il fracasso, no? Però è il chiasso della strada, c'è sempre, io dormivo. Il 21enne stava viaggiando lungo questa strada, la provinciale che attraversa il centro abitato di Querata. Il giovane ha perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento e si è schiantato contro il muro di recensione di un'abitazione, finendo la sua corsa nella resede dell'abitazione stessa, non coinvolgendo altri veicoli. L'auto è stata ritrovata dai soccorritori proprio nel cortile. Sul posto sono intervenute un'automedica di Arezzo, un'ambulanza della misericordia. Sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere dell'utilitaria. Il ragazzo l'hanno affidato alle cure dei sanitari. Il giovane è stato quindi portato in ambulanza verso il pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo, ma purtroppo è morto durante la corsa in ospedale. Lungo la strada, poco prima del luogo dell'impatto contro il muretto, pare non ci siano segni di frenato. Sul posto, questa mattina, anche i tecnici della corrente elettrica e del gas. L'incidente ha infatti provocato importanti danni alle colonnine di distribuzione della luce. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri. Una tragedia terribile, una giovane vita spezzata troppo presto, così commenta il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. Ancora una volta un ragazzo vittima della strada, ancora una volta piangiamo una morte ingiusta che lascia una ferita indelebile. Ho appreso questa mattina con sgomento la notizia. Insieme a me si stringono all'affetto sincero attorno alla madre di Lorenzo, l'intera amministrazione, gli assessori, i consiglieri e tutti i colleghi di Paola. A lei e alla sua famiglia conclude le nostre condoglianze più sentite. Ci spostiamo adesso in Valtiberina dove invece cresce l'allarme furti. La Valtiberina ancora nelle mire dei malviventi dopo l'assalto alla villa della presidente di Confartigianato Arezzo. Questa notte un altro colpo messo a segno. È successo ad Anghiari. I ladri, dopo aver sfondato una finestra, sono riusciti ad entrare all'interno dell'azienda Forval che produce ed esporta Catena Minoro. L'allarme sarebbe scattato una prima volta attorno all'1.30 sul posto Vigilanza e Proprietà che però non hanno notato nulla di strano. L'amara sorpresa solamente la mattina successiva. I ladri potrebbero essersi infatti nascosti all'interno e aver poi in mano messo il sistema d'allarme. Io ci credevo manco che no, è impossibile. Tutte le cose sono successe quest'anno e lasciamo perdere. Infine la fuga, con un bottino ingente, la stima esatta è ancora al vaglio degli inquirenti ma supererebbe comunque 100.000 euro. I malviventi sono infatti riusciti ad aprire la cassaforte con un flessibile ed hanno fatto incetta di oro. Abbiamo portato tutta la roba già preparata per spedire i clienti. Immediate le indagini portate avanti dai carabinieri della compagnia di Sansepolcro, al vaglio degli investigatori e anche alle immagini delle telecamere di video sorveglianza nonostante i tentativi e i debanditi di eludere il sistema. Un furto avvenuto a pochi chilometri dal gran colpo in vila ha messo a segno il giorno precedente e fruttato un bottino da 100.000 euro. In Valtiverina cresce così l'allarme. Così noi siamo anziani, c'è da quel pavoro. Si viene migrato bene, è un po' poco controllare il regolamento. A Cavriglia invece un incendio ha interessato un'abitazione nella quale sono rimaste intossicate due persone. Coppie di anziani intossicata dal monossido di carbonio a causa di un incendio divampato nella loro abitazione è successo questa mattina in località Bello Sguardo, nel comune di Cavriglia. Marito e moglie sono riusciti a mettersi in salvo ed hanno chiamato i soccorsi. Entrambi sono stati portati dai sanitari del 118 al pronto soccorso della gruccia per una lieve intossicazione. Le cause che hanno provocato il ruogo sono ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco di Montevarchi, intervenuti sul posto per domare le fiamme e bonificare l'aria. Presente anche la polizia municipale. L'abitazione ha riportato ingenti danni. Gli agenti della sottosezione della stradale di Battifolle sono intervenuti in A1 su richiesta dei colleghi del centro operativo di Firenze per la segnalazione di furti in un market dell'autogrill di Montepurciano Nord. A rubare dei prodotti elettronici era stato un autotrasportatore. I poliziotti così si sono posizionati a reticolo sul territorio di competenze ed hanno stretto il cerchio attorno a un tir con targa italiana. Visto l'evidente stato di agitazione del conducente, gli agenti hanno eseguito anche una minuziosa perquisizione del suo veicolo grazie alla quale è saltato fuori l'intero bottino. Voltiamo pagina e torniamo adesso a parlare dell'allarme che avevano lanciato alcune associazioni di volontariato in merito ai trasporti. dell'argomento se ne è occupato Massimo Gianni nella sua trasmissione Vobosette. Vediamone un piccolo estratto. Amiche e amici, ciao a tutti. In questa puntata ci occupiamo della Croce Bianca. Abbiamo accanto a noi Urbano Dini, che è il presidente di questa vecchia istituzione, oramai è presente nel... 130 anni, 130 anni. Perché non sono pochi. Assolutamente, assolutamente. Ormai è una, diciamo, parte integrante della città e della vita cittadina di Arezzo. Ecco, noi abbiamo raccolto lo sfogo del presidente Dini proprio perché ci sono questi tagli che stanno mettendo in discussione il prezioso lavoro che fate quotidianamente. Sì, quello che io voglio sottolineare, dare come informazione a tutti i cittadini, è l'importanza della pubblica assistenza per la città. Noi svolgiamo un servizio di emergenza urgenza con un sistema di ambulanze completamente attrezzate sia come mezzo e sia come attrezzature sanitarie, con personale a bordo che deve essere fatto un equipaggio formato da almeno tre persone, preparato e che sappia intervenire in tutti i casi che si possono accadere durante un sinistro oppure un malore, quello che insomma può accadere. E questo mezzo viene pagato una cifra che non è assolutamente sufficiente per coprire i costi. La mission dell'associazione non è quella di guadagnare. Noi siamo chiamati a dare un servizio alla città e quindi non ci interessa guadagnare. Ci interessa però coprire i costi per poter continuare a lavorare e continuare ad andare avanti a dare questo servizio alla cittadinanza. Oggi nella Sala dei Grandi la Presidente della provincia di Arezzo Silvia Chiassai Martini ha firmato il protocollo d'intesa per la strada della Luna assieme alla Presidente della provincia di Pesare Urbino Giuseppe Paolini e sindaci dei comuni di Borgo, di Badiate d'Alde e di Sestino. Un accordo atteso da decenni dai comuni interessati ha dichiarato che permetterà finalmente la realizzazione di opere finalizzate alla sistemazione della strada della Luna. Una viabilità interprovinciale ed interregionale a forte vocazione turistica che diventerà una rete viaria sicura di collegamento con il centro Italia tra Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Marche. Si tratta di un atto propedeutico per un impegno cronoprogrammatico per la gestione e la presa in carico delle strade comunali da parte di provincia di Arezzo e provincia di Pesaro e Urbino. E un'altra firma, in questo caso in Casentino, a Romena per il primo contratto di fiume sull'Arno. Nei ruscelletti che di verdicolli del Casentino discendo in Giuse in Arno facendo i loro canali freddi e molli. Questo fa significare che già ai tempi in cui Dante, durante l'esilio era qui in Casentino, gli affluenti rendevano verde come oggi il Casentino e quindi un progetto del genere firmato a Romena sono me non un caso. È stata la suggestiva cornice della fraternità di Romena, Prato Vecchiostia, ad ospitare la cerimonia di firma del contratto di fiume Casentino H2O, il primo a nascere sull'asta fluviale dell'Arno. Il fiume Arno fa da connettore di una serie di iniziative, di interessi da portare avanti per tutti coloro i quali insistono le persone, le attività, i soggetti su questo ambito territoriale. Vuol dire, a mio avviso, che per la prima volta forse in questo nostro paese i territori sono protagonisti di se stessi. 39 gli attori del territorio che hanno sottoscritto il documento degli impegni, punto di passaggio dalla fase di studio, conoscenze e analisi del territorio alla fase attuativa. Un'unità di intenti vera. Allora le istituzioni, a cominciare dalla nostra ovviamente, devono riconoscere questa particolarità e premiarla. Quindi come si premiano queste realtà? Si promuovono, si affiancano, si sostengono e si mettono delle risorse economiche. Dunque adesso si passa alla fase operativa con l'attuazione dei 28 progetti inseriti nel programma d'azione. L'Arno, i suoi affluenti, l'acqua in Casentino è sempre stata strategica per l'economia di questo territorio. Penso ai mulini, penso all'anificio collegato al tessuto del Casentino oppure la cartiera in epoche più recenti. Ecco, di nuovo l'Arno vuol tornare protagonista nel muovere l'economia di questo territorio. Il comune di Arezzo ha conquistato due premi in tre edizioni dello smartphone d'oro. il concorso organizzato da Pia Social che premia i migliori progetti di comunicazione e innovazione digitale. Grande è la soddisfazione dell'assessore Monica Manneschi che ieri a Roma ha ritirato il riconoscimento. Nella 2020 avevamo vinto la sezione antilocale e ha dichiarato quest'anno il nostro comune scala la classifica conquistando il terzo posto assoluto con il progetto Nonni Digitali ma anche un riconoscimento del valore del progetto nel suo complesso che ha visto impegnati il personale dello sportello unico e dello staff comunicazioni in molti cassa della città per diffondere la cultura digitale. A Monte San Savino invece è arrivato un insolito albero di Natale. Quando guidi pensa a chi ti ama perché se ti rispetti le regole è un modo sicuro per vivere e per tornare a casa da chi ti ama e dai tuoi cari. Al posto delle palle dei cartelli che esortano a mantenere un corretto comportamento stradale, al posto del puntale invece una paletta. A Monte San Savino è stato così allestito un insolito albero di Natale fatto di cartelli stradali. Volevamo augurare in modo educativo buone feste a tutti i nostri cittadini e anche ai turisti che vengono a visitare la nostra città. L'albero di Natale pensato e realizzato dalla Polizia Municipale di Monte San Savino si trova a lungo corso Sangallo proprio accanto alla sede del comando nel centro storico. Ci sono consigli sulle regole da seguire per le norme del codice della strada quindi di rispettare i colori del semaforo, di raccogliere le dedizioni dei cani che a volte ci creano problemi per le strade del nostro comune quindi un incitamento all'educazione nei confronti di questo problema. Poi ci sono messaggi su che cos'è la protezione civile quindi prevenzione, primo soccorso e informazione alla cittadinanza. Il rispetto dei pedoni, quindi degli utenti più deboli del codice della strada e quindi in generale tutte le norme per la sicurezza degli utenti della strada. Insomma l'albero di Natale può diventare anche uno strumento di educazione stradale. Sfruttare un evento di festa anche per dare degli insegnamenti, dei messaggi e delle indicazioni. A riguardo però vorrei sottolineare che Monti San Savino ha queste sensibilità. Infatti oltre che l'albero di Natale vedete che sotto le loggie dei mercanti vi è un presepe un presepe fatto da tutti gli anziani della nostra casa di riposo insieme a altri anziani di altre case di riposo limitrofe proprio per dare un segnale che anche gli anziani partecipano e hanno fatto qualcosa visibile e apprezzabile. Un moderno strumento di diagnosi che il medico porterà con sé e l'aiuterà ad effettuare una valutazione rapida del paziente. Si tratta dell'ecografo portatile che è Rotary Club Arezzoessa questa mattina donato all'ospedale Cittadino. Uno strumento molto utile di dimensioni simili ad un telefono che può essere portato nella tasca del camice può essere impiegato sia nella diagnosi che come coguida nelle procedure interventistiche. Cambiamo argomento per parlare di cultura torna finalmente quest'anno il concerto di Capodanno al Teatro Petrarca. Il 2023 ad Arezzo si apre con il concerto di Capodanno di Oida torna infatti al Teatro Petrarca l'evento promosso da Comune Fondazione Guido d'Arezzo con la direzione artistica dell'orchestra instabile di Arezzo diretta dal maestro Alessio Tiezzi. Finalmente ritorna il concerto di Capodanno con l'Oida l'altro anno purtroppo causa Covid saltò quest'anno invece ci siamo e non solo ci siamo un po' per recuperare quello perso dell'anno scorso ma soprattutto per dare più possibilità a chiunque voglia vedere questo concerto abbiamo deciso insieme all'orchestra di aprire la prova generale del 31 alle 10 in modo che si possa vedere, sentire soprattutto questo bellissimo concerto e dare possibilità a più persone di fluirne. L'appuntamento è per il primo gennaio alle 18 al Teatro Petrarca l'evento è in grasso libero ma è necessaria la prenotazione. Sarà un viaggio nel mondo, cominceremo con l'Italia, con Rossini, Gazaladra poi andremo sulla Carmen di Bizet, poi Brahms, Vorjak, Strauss ovviamente danze polovesiane di Borodin, un pezzo imponente e per terminare appunto con il Messico Marquez e Danzò numero due che è un brano emblematico e ci fa enormemente piacere tornare su questo palco dopo appunto anche lo scorso anno che saltò appunto per causa Covid ringrazio tutta la fondazione, quindi il direttore Cinatti e il maestro Zanon che comunque hanno continuato su questa tradizione del concetto di Capodanno al quale noi teniamo tantissimo. Ancora cultura, un viaggio nell'universo femminile attraverso le grandi opere liriche dell'Ottocento italiano, domenica 18 dicembre alle 18 al Teatro Mecenate lo spettacolo Donne in opera che proporrà una riflessione sulle difficoltà di emancipazione sulle conquiste delle donne nel corso della storia attraverso le musiche e le parole di Puccini, Verdi e Doninzetti con il coinvolgimento degli alunni delle classi terze della scuola secondaria 4 novembre. Passiamo adesso alla pagina dello sport, alla calcio sono 600 italiani riservati ai tifosi amaranto per la partita di Città di Castello con il Trestina prevendita attiva fino a domani alle 19. Oggi in allenamento, domani la rifinitura, sabato la partita e poi altri 4 giorni intensi per arrivare alla gara interna con il Poggi Bonzi alle 14.30 che chiuderà il girone d'andatra. Successivamente la squadra beneficerà di un periodo di riposo per le festività natalizie con il campionato che riprenderà l'8 gennaio con la partita della Comunale contro l'Orvetana. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.